Cremola nel cuore, la lista civica di Giancarlo Corada. Chiediamo il tuo voto, mostrando i nostri volti, le nostre storie, le nostre speranze. Siamo la lista civica di Giancarlo Corada, siamo... Michele Accettura, medico Fondazione Sospiro, 53 anni. Franco Acerbi, pensionato, 75 anni. Beppe Arena, regista, 45 anni. Franco Balconi, commercialista, 62 anni. Silvio Becchi, dipendente Tamoi, 40 anni. Graziano Bertoldi, pittore d'artigiano, 63 anni. Mara Bertolini, scenografa teatrale, 31 anni. Leo Bonelli, imprenditore, 53 anni. Loris Boni, es calciatore, allenatore di calcio, 56 anni. Santo Canale, studente, 22 anni. Gianni Carotti, broker assicurativo, 64 anni. Ilaria Castiglioni, libera professionista del settore della comunicazione, 29 anni. Adrian Ciobotaru, commerciante, 39 anni. Carlo Croce, pensionato, 63 anni. Patrizia Della Vedova, presidente del comitato di quartiere volontari ZEIST, 49 anni. Guido Denti, commerciante, 35 anni. Leonardo Esposto, studente, 24 anni. Carla Ferrari, pensionata, 68 anni. Checco Ferrari, avvocato, 49 anni. Michele Fogliazza, studente, 27 anni. Alfio Garini, avvocato, 69 anni. Luca Genesi, avvocato, 47 anni. Riccardo Genzini, artigiano restauratore, 49 anni. Gianfranco Ghilardotti, provveditore agli studi di Mantova, 60 anni. Matteo Gobbi, imprenditore, 33 anni. Cesare Lombardi, tecnico informatico del settore zootecnico, 46 anni. Claudio Maggi, imprenditore, 53 anni. Enrico Manfredini, responsabile marketing Sperlari, 49 anni. Cinzia Mariotti, pensionata, 60 anni. Maria Grazia Martino, avvocato, 38 anni. Patrizia Mazzini, commerciante, 48 anni. Giancarlo Moglia, dirigente d'azienda, 66 anni. Claudio Monica, imprenditore, 60 anni. Elio Mosconi, pensionato, ex manager, 70 anni. Ana Neaxu, collaboratrice domestica, 42 anni. Dario Redolfi, imprenditore, presidente della Federazione Provinciale Basket, 58 anni. Orietta Repellini, infermiera, 35 anni. Gianni Taveggia, medico, direttore dell'Istituto Clinico Abilita di Sarnico, 45 anni. Susi Zagheni, architetto, 50 anni. Lucia Zanotti, scrittrice, giornalista, confondertrice del gruppo Il Frantoio, 69 anni. Per far vincere Corada, vota la sua lista civica. Vota Cremona nel cuore.